presentare un bellissimo libro. Beh è un onore per me poter presentare La Factor a casa Sanremo soprattutto perché io amo questa città, amo l'atmosfera sanremese e La Factor parla d'amore quindi è l'occasione perfetta direi. Stasera fra l'altro c'è una tua amica qui te la sei ritrovata dalla Sicilia direttamente qui a Sanremo e è venuta proprio a vedere te e acquistare il tuo libro. Beh io sono contentissima, sono anche un po' emozionata perché non ci vediamo da un po' e la sentirò anche esibirsi, la vedrò anche esibirsi dopo. Quindi io incrocio le dita per te per questa sera, un'artista meravigliosa e sono stra felice di averti qua con me e che tu abbia assistito alla presentazione di La Factor. Bene un'ultima battuta, di cosa parla questo libro brevissimamente? Di amore e della capacità di amare e di farsi amare. Io lo sto acquistando è pronto con dedica, vi raccomando eh? Poi ce lo racconterai. Grazie a tutti. Grazie a tutti.